Si ripropone a partire dall'8 dicembre il cosiddetto villaggio di Natale ad Alba Adriatica tante iniziative e tante le associazioni coinvolte. Sì, le associazioni coinvolte sono ben 14 più l'istituto comprensivo di Alba Adriatica, quindi un lavoro che è già partito all'inizio del mio assessorato, una condivisione continua con le realtà del territorio che hanno portato prima al grande successo del Carnevale come Cabofila Paidia e adesso ribadiamo l'importanza di condividere certe scelte per cui si andrà a creare insieme il villaggio di Natale, l'Alba Christmas Village, Cabofila, la Proloco Spiaggia d'Argento. Verrà ricollocato il tendone con iniziative che poi abbracceranno tutte le fasce di età, anche con la pista di pattinaggio. Sì, diciamo che il contorno equivale alla posa della pista di ghiaccio, quindi di pattinaggio, alle giostre e al tendone per cercare di rendere più lieti gli eventi all'interno dello stesso. Ci saranno più di 30 eventi, la partenza ovviamente dall'8 dicembre, invito a questo punto la città a partecipare dalle 16 in poi con l'accensione delle luci dell'albero di Natale e termineranno fino a dopo l'epifania. Sono 30 eventi di una grossa importanza che interesseranno i bambini, gli adulti e anche le persone anziane.